Ha percorso 3.000 km sulle orme di Antenore, in una barca a remi. Oggi Hussein Urmez è stato accolto dalle massime autorità cittadine davanti alla provincia di Padova. Questo cittadino turco, coraggioso e forte fisicamente, pieno di salute, ha compiuto questa storica impresa, cioè di ripercorrere il tragitto fatto da Antenore, che è partito dalla Turchia e poi è sbarcato in Italia. Ha fatto questi 3.000 km con una barchetta a remi e in questo modo ha rinsaldato l'amicizia fra i popoli e ha celebrato le radici e l'origine del popolo veneto. La sua è stata una grande impresa, gli obiettivi suoi erano da una parte sostenere l'opera del professor Silvello e dall'altra essere un esempio e creare una coscienza del fatto che queste sono imprese che l'uomo può realizzare senza essere un superman.